e poi i carri allegorici per Marte di Grasso, se vicino il Carnevale ostigliese, che l'amministrazione ha organizzato insieme a Proloco, commercianti e associazioni locali. Il nostro intento è proprio questo, di organizzare un carnevale insieme con tutte le associazioni. Ci sarà il weekend, dove ci saranno iniziative per i bambini, quindi maschera, ma anche per gli adulti, ma soprattutto è il martedì grasso, il 28 febbraio, dove ci saranno ancora per il terzo anno consecutivo i carri allegorici. Si parte subito il 25 febbraio con l'iniziativa organizzata in collaborazione con la Polisportiva di Correggiole. Facciamo due feste, alle 3 e mezza sotto il tendone riscaldato della Polisportiva Correggiole, la festa per i bambini, a seguire il ballo in maschera con gli adulti e la cena, per poi proseguire il giorno dopo, il 26, la domenica, oltre a esserci il mercatino del riuso, a termine del mercatino ci sarà la sfilata a quattro zampe, cioè i bambini, gli adulti in costume o non in costume, porteranno il loro cagnolino o qualsiasi animale loro abbiano. Ci sarà un'animazione che terrà Federico Stecca e compremiazione anche per la coppia più bella. Il clou è ovviamente la sfilata di carri allegorici prevista per martedì 28 febbraio, importante anche per rivitalizzare il centro dal punto di vista commerciale. Vogliamo sia nel weekend ma anche con i carri allegorici fare in modo che tanta gente venga ad Ostiglia e ci sia la possibilità, visto gli ultimi giorni di sconto, dare delle possibilità anche per gli sconti ulteriori, per i commercianti, ma in modo da fare vivere il paese tutti insieme.